Ciao, oggi vediamo una variante dell'esercizio che abbiamo visto la scorsa volta, vale a dire per le gambe, abbiamo visto gli affondi, adesso è anche una tenuta delle gambe, adesso vediamo ancora un affondo binato a un esercizio dinamico, che è tra virgolette sempre un affondo laterale, così ci aiuta sempre a forzare le nostre gambe e i gluti e a prepararci anche a questa stagione scistica che tarda per poter avere le gambe supertoniche. Iniziamo con l'affondo che abbiamo visto l'altra volta, solo che invece ti farlo lateralmente come abbiamo visto, lo facciamo normale, cioè dietro di noi, e poi recuperiamo in questo modo, quindi indietro, prendo aria, fuori. Ne faccio una ventina da una parte o comunque una quantità di ripetizioni che mi sento di fare. Dopodiché cambiamo gamba, lo facciamo dall'altra parte e quando abbiamo smesso le nostre ripetizioni recuperiamo dal centro e facciamo un spostamento dinamico laterale andando giù. Quindi recuperiamo il centro, portiamo fuori la gamba lateralmente un po' in affondo e facciamo un piccolo saltello verso l'alto, teniamo le alberi in mani, usiamo le gambe e usiamo i glutei. Quando abbiamo finito facciamo gli esercizi di stretching che già conosciamo e facciamo un altro lungamento verso l'alto e verso il basso e anche un po' di stretch per i nostri colpucci. Buon lavoro a tutti, ciao!